Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo video Sono contento che sia ripartito il tutto, il canale e anche i video ovviamente all'interno Con la nuova edizione di FIFA C'è sempre molto fermento, molta voglia di conoscere la nuova edizione E di capire quali saranno i dettagli, le specifiche del FIFA 22 in questo caso Oggi è il turno di analizzare lo starting bot del mediano Ruolo importantissimo, soprattutto l'anno scorso Come zona del campo però, cioè come fase del campo Come setting è stato veramente escluso Escluso dal competitive, escluso dal giocatore effettivo che si posiziona lì in mezzo al campo davanti alla difesa Il mediano andava settato ADA, andava settato CC, andava settato TS, TD Ma mai, quasi mai, CDC È stato un bot molto downgradato perché negli anni passati il CDC era molto utilizzato Addirittura lo utilizzavano come DC Quindi l'anno scorso c'è un po' deluso Electronic Arts secondo me quest'anno Electronic Arts secondo me quest'anno avrà ovviamente optato per alcune modifiche Sì perché veramente il CDC non era utilizzabile Era molto lento, molto macchinoso, nello stretto non riusciva a muoversi Proprio per questo abbiamo delle grosse aspettative, delle modifiche Sapete anche con gli skill points nuovi, nuovi rami Avremo la possibilità di utilizzare magari meno skill points, meno punti Per carte fondamentali per il CDC Io sono molto ottimista per questo ruolo quest'anno Proprio perché ero rimasto delosissimo in FIFA 21 Come starting bot è molto difficile da selezionare le carte di partenza Ma vediamo il tutto, vediamo anche la versione femminile se ha delle differenze con quella maschile Ma la cosa più importante è che speriamo si possa utilizzare quello che è il ruolo secondo me Più importante in assoluto in qualsiasi tipo di modulo Io sono pronto, e voi? Carichi per commentare qui sotto, dare feedback, via! Rieccoci ragazzi in game Andiamo a vedere quello che è il setting del mediano Avete visto già stile gioco CDC Quindi proprio un mediano davanti alla difesa Vediamo intanto gli stili gioco E intravedete già le stats con le varie carte accese Per quanto riguarda il profilo Andiamo subito a rinominarlo E lo chiamiamo ovviamente come il setting che stiamo studiando CDC E vediamo altezza e peso Altezza peso, 1,82 per 68 kg Credo che sia la versione migliore per questo gioco Allora, aspettate a dare sentenze su questo setting Perché è proprio voluto che sia leggermente più alto di come dovrebbe Ossia, vi spiego meglio In questo gioco ragazzi dopo poche partite svolte Vi danno comunque degli skill points molto molto rilevanti E potrete ovviamente aggiungerli agli skill points Che inseriamo quest'oggi nel video E vi posso dire che questa altezza e questo peso Per un mediano sono eccezionali Quando si accendono più carte Però vale la pena metterlo, settarlo fin dall'inizio così Quindi lo troverete leggermente macchinoso all'inizio Ma man mano ragazzi Quando comincerete a far partite A sbloccare i skill points Vedrete che sarà molto molto OP Per quanto riguarda il piede Ovviamente io metto sempre il sinistro Ma è una mia preferenza personale E andiamo a vedere adesso gli attributi Ed è molto molto interessante Perché comunque ragazzi Stiamo parlando di un bot alto Ma con valori molto buoni Vedete che fisico Comunque non sono valori eccellenti Però possiamo comunque rimanere contenti Del fatto che comunque sono valori superiori al 75 A parte la forza Che non ha molto senso per un cdc Averne 62 di overall Pensavo avesse comunque uno stats lì Proprio in quella dicitura più alto Almeno 75 E qua sono rimasto un po' deluso Però per il resto Elevazione 73 comunque è sufficiente Resistenza non dobbiamo avere Chissà chi all'inizio 72 ci sta Reattività 85 Aggressività 82 Io direi che in questa sezione Possiamo lasciare direttamente così La cosa interessante Secondo me potrebbe essere Boostare la difesa Perché io il mediano In questo senso come cdc Che gioca mediano Quindi davanti alla difesa Quindi in un 3-1-4-2 Oppure in un 4-1-3-2 Oppure in un 4-3-3 Dove il mediano è molto basso Insomma Quel pilastro davanti alla difesa Lo percepisco come difensore aggiunto Più fase di impostazione Per la squadra Quindi io darei qualcosina in difesa Però passiamo comunque al dribbling E vediamo intanto le stats Ha comunque dei valori vicini al 68 84 70 Insomma un bot variegato Essendo un difensore Dobbiamo dargli Tra virgolette Delle connotazioni difensive La velocità è importante? Bah Secondo me no Cioè io inizialmente Non la metterei Quindi Diciamo Metterei da parte la velocità Quindi Darei qualcosa Nella difesa Sicuramente Nella parte Del contrasto in piedi Perché Leggermente bassino Il valore Quindi metterei Sicuramente Il contrasto in piedi Che da più 2 Arriviamo a 79 Già è decente E darei un più 2 Di intercettazioni Abbiamo comunque Già un Difensore Diciamo Perché Se noi dessimo anche La lettura difensiva Vedete che Comunque Abbiamo dei valori Eccezionali Però A questo punto Io metterei questi due valori E abbiamo comunque Un cdc Che sa difendere Sicuramente Sicuramente I passaggi Sono importanti Soprattutto Quelli corti Quindi Costo 1 Per un più 2 Di passaggio corto È obbligatorio Abbiamo poi Il più 3 Costo 2 Qua È ovviamente Una scelta vostra Io lo accendo Perché secondo me È utile Perché avere comunque Un passaggio corto 88 All'inizio È eccezionale La visione Sinceramente All'inizio Non mi convince Soprattutto Perché costicchia E non ha Non ha molto senso Cioè costa comunque 3 Metterei forse Passaggi lunghi Quindi 88 Lungo 88 Porto Ed è eccezionale Per quanto riguarda Tiri Abbiamo comunque Dei valori Decenti Ma questo bot Non deve tirare Allora a quel punto Abbiamo due possibilità O aggiungere un po' di agilità Quindi arriviamo al 74 E non è niente male E poi Aumentare un po' di dribbling Però non ve lo consiglio Oppure aumentare Il controllo palla Controllo palla Più due Arriva a 86 E a quel punto Allora Possiamo pensare Di dargli Un po' più di forza Questo Secondo me È la versione Un po' ibrida Di un cdc Che comunque Deve difendere Secondo me È la scelta migliore Sicuramente Abbiamo varie possibilità Possiamo Boostare la velocità Per renderlo Il più possibile Veloce Nell'ossetto Però raggiungerebbe quota Quasi 80 E alla fine dei conti All'inizio Ci serve poco Secondo me Dare quel surplus Nei passaggi Vedete 88-88 Ad inizio gioco Senza fare nulla Per un cdc È un valore eccezionale E soprattutto perché In questo gioco Rimacco questa cosa I passaggi Se fatti bene Se ben direzionati Sono eccellenti E abbiamo comunque Una difesa Molto buona Secondo me Il cdc quest'anno Quindi È molto Molto versatile Andiamo a vedere Un attimo Le specialità Possiamo mettere O passaggi vincenti O muro Pensando Agli attributi Difensivi Per un cdc Comunque Comunque Metterei Passaggi vincenti Per il semplice fatto Che il cdc Non può sbagliare In mezzo al campo Soprattutto Nei passaggi Semplici Ravvicinati E a quel punto Questa carta Questo perks Secondo me È fondamentale Però se volete Comunque Che sia veramente Un effettivo Difensore aggiunto Anche muro Può essere utilizzato In questo caso Vedete Andate qui E la modificate Però io Comunque Scelgo Passaggi vincenti Andiamo a vedere Adesso La sezione Degli attributi Totali Con le stats Qui ben visibili Abbiamo un totale Di 82 Quindi Un overall Di partenza Molto buono Tiri 68 Vabbè Non ci potevamo aspettare Di più sinceramente Quindi Sono dei valori Che secondo me Soddisfano Perché Non deve tirare Ma comunque Se tira Diciamo che Sa come si fa Un minimo Quindi Va bene Passaggio 81 Allora L'unica cosa Che non riesco a capire È la visione Cioè il cdc Comunque di base Dovrebbe avere una sua visione Over 80 Cioè secondo me Il cdc Visione Parte 83 E questa cosa Che Si è messo Il 78 Proprio per dare Un downgrade Qua nella sezione Intera di passaggi Non l'ho Molto digerita Sinceramente Mi aspettavo Una visione più alta Comunque Effetto 72 Ci può anche stare Però la cosa interessante Che con le skill point accese Ripeto Abbiamo passaggio lungo E passaggio corto 88 Per quanto riguarda Il dribbling Abbiamo Dei valori Sufficienti Va benissimo E soprattutto Il controllo palla Che raggiungiamo 86 Quindi Io credo che Sono dei valori soddisfacenti Per quanto riguarda La difesa Abbiamo dei valori Praticamente Che si aggirano Intorno all'80 La cosa interessante È ovviamente L'intercettazione 84 Questo vuol dire Che Quando si è Praticamente Sulla linea di passaggio Ci sono Tantissime possibilità Di intercettare Anche se in questo gioco A volte Si fa fatica Comunque Ha dei valori Quasi da difensore terzino Per quanto riguarda Il fisico Abbiamo comunque Dei valori Nella norma L'aria attività Comunque è alta 85 Dà un grosso aiuto In questo gioco Quindi Va benissimo L'elevazione 73 Non è un gran che Ma va bene Aggressività Comunque è alta Velocità 71 La velocità Non è il cavallo Di battaglia Di questo Setting bot Assolutamente Però Secondo me Sono dei valori Sufficienti Per l'inizio del gioco Quindi va bene così Quindi un buon voto Per il cdc Secondo me Quest'anno Ragazzi Sarà un setting Veramente interessante Tra quelli Secondo me Più interessanti Rispetto all'anno scorso E Sarà molto usato Ve lo dico già oggi Sarà Veramente Veramente Visibile All'interno Di quasi Tutti i moduli Per oggi Ragazzi Abbiamo terminato Andiamo Ai saluti Ragazzi Anche per questo video Abbiamo terminato Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Attivate qua sotto La campanellina Per questi tipi di video E molti molti altri Siamo pronti Per portare i nuovi Continuti Però Dobbiamo determinare Questa scia Degli starting bot E per qualsiasi impressione E qualsiasi suggerimento Noi siamo qui Ragazzi Vi ricordo che su youtube Il pro lab Siamo noi Un abbraccio A Gianni Ciao Ciao